Il primo, il due e il tre giugno, voci di maggio, sbarca alla Maddalena. Musica, eventi culturali, sagre, sport, antichi mestieri, tre grandi concerti, musica elettronica, Roberto Vecchioni, gli Stentales e tanti altri big e i nomadi. Da Cascia a Saperadura e le reliquie di Santa Rita, presenta Giuliano Marongiu. Il primo, il due e tre giugno, voci di maggio, è alla Maddalena.